Mister, complimenti, anche perché è un piacere parlare con lei anche a Telecamere Spente, perché abbiamo analizzato un po' la gara. Posso sintetizzare primo tempo da squadra sotto l'aspetto tattico e tecnico, secondo tempo vera squadra e soprattutto sotto l'aspetto della sofferenza e della compattezza? È stato perfetto nell'analisi. Noi abbiamo fatto per 40 minuti molto bene il primo tempo, dove abbiamo concesso poco all'Aquila, poco Banegas, poco Marcheggiani, abbiamo concesso un po' il pallino lì in mezzo al campo, ma eravamo preparati a questo per farli uscire da una parte all'altra. Abbiamo offerto due situazioni di palla esterna, però poi hanno fatto molto bene tutte le cose provate, quindi questo è un esempio di applauso che voglio fare a miei ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di straordinario, specie della parte finale in cui abbiamo chiuso con due 2005, due 2004, tre 2003 e abbiamo sofferto come animali, insieme alla piazza, insieme alla curva, insieme alla tribuna, percepivo dalla panchina quella sensazione di portare a casa per forza di cose la partita contro una squadra oggettivamente forte, contro una squadra che veniva da tre vittorie utili consecutive, giocando un ottimo calcio, per cui oggi è una vittoria che vale, secondo me, triplo per come l'abbiamo portata a casa di sofferenza. Poi aspetto tecnico-tattico, ora sono contento, lo voglio analizzare da domani con calma, pensando anche alla prossima. Però complimenti ai ragazzi. Mister, ovviamente siamo un emittente abruzzese e molisana e allora le chiedo, rispetto alla partita di andata, quando ci fu l'esordio di Cappellacci in panchina, che differenza nota? Se c'è la differenza tra quella gara, vinta dall'Aquila soffrendo davvero tantissimo, e questa? Ma io dico una cosa, dico che ora andiamo incontro a un rush finale di campionato in cui i punti contano veramente, sia per noi che siamo nelle zone bassi, che per l'Aquila che nelle zone alte. Quindi credo che l'Aquila sia cresciuta tanto, anche fatto sta grazie al mercato invernale che hanno fatto, grazie all'allenatore che ha cambiato qualcosa. Noi anche siamo cresciuti con tutti questi ragazzi fantastici che giorno dopo giorno non mollano di un centimetro. Siamo stati bravi con la società a mettere dentro due o tre pezzi under, giovani, forti lì davanti, che si alternano, che danno battaglia, si allenano bene. Per cui siamo tutti in crescita. È chiaro che questa è una parte di campionato in cui stanchezza, caldo, punti peseranno tanto e bisogna essere perfetti dal punto di vista dell'atteggiamento, della volontà, della fame di voler portare a casa la partita. Scaramanziano, le chiedo come finisce sotto, nelle zone, tra virgolette, più calde. Però mi dice, mister Campolo, vista l'esperienza, chi vince il campionato, anche guardando a come si sono incastrati i risultati delle prime tre, proprio quest'oggi? Si sbilancia, mister Campolo? No, posso provare a dire la mia tranquillamente, credo Campobasso, comunque parla classifica, diciamo sta qualcosa in avanti e secondo me Campobasso con l'Aquila e con la Sambianettese credo potranno battagliare fino alla fine. È chiaro che Campobasso ha quella sorta, cioè comunque ha quei punti leggermente maggiori. Una forchetta abbastanza, pur pareggiando oggi ha guadagnato su entrambi. Esatto, e quello pure sono segnali anche di fortuna che in un campionato che vince lo servono.